Anche questa sera che sofferenza, però a differenza dell'altra sera, questa sera si è visto il Pescara giocare una buona partita. No, stasera non è stata una sofferenza perché il Pescara ha giocato dal primo minuto fino alla fine e quindi quando vedi una squadra così sei abbastanza tranquillo. Poi ci siamo fatti due gol al solito e quindi poi diventa difficile se non fai subito il gol prima della fine del primo tempo diventa veramente dura. Però forse si è visto dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della proposizione, il miglior Pescara dell'ultimo periodo, era dalla partita con il Cesena in casa che non si vedeva una squadra giocare così. Sì, hanno giocato una buona partita, la voce è andata via purtroppo, abbiamo avuto diverse palle gol, anche stasera siamo mangiati la nostra porzione di gol. Però credo che sulla partita, anche giocando gli ultimi venti minuti in dieci, non ci sia stata mai storia. Assolutamente, perfettamente d'accordo. Le volevo chiedere cosa le è passato per la mente quando Drudi si è fatto male e il Gubbio è andato avanti 2-0. Mi è passato per la mente che dovevamo fare una grande rimonta, che si poteva fare perché la squadra stava giocando bene. Zeman è andato a vincere ad Avellino, l'Olbia ha quasi fatto lo scherzo a Lentella, ma il Pescara non sarà a testa di serie. Ma vabbè, adesso a testa di serie, no? Sicuramente il discorso di avere la seconda in casa, però adesso sono tutte quante forti. Presidente, è stato un bel Pescara, ma bisogna anche fare la conta con le ammunizioni diffidate, perché il Pescara praticamente ha tutta la squadra in diffida. Eh sì, purtroppo le due ammunizioni qui contano come diffida, quindi dobbiamo stare attenti. Drudi che si è fatto? Non lo so, ha sentito, credo, uno stiramento. Quindi stagione finita? Penso che sì. Presidente, le chiedo l'ultima cosa prima delle domande da studio, io gliela faccio sempre questa domanda, anche se passano poche ore. Ci sono degli sviluppi societari? Magari dall'altra parte dell'America stanno vedendo questi play-off? Sì, adesso è arrivato Shevchenko. Io penso che veramente Pescara è un film, nel vero senso della parola. Non so chi ha dato questa notizia, non so chi l'ha messa in giro, ma veramente a Pescara si può fare tutto. Americani e italiani invece? Coltate sue. Vanno avanti, non vi preoccupate. Massimo. Buonasera alla Presidente Sebastiani, c'è al mio fianco naturalmente Fabio Ferraresi, a cui cedo la parola. Fabio. Ciao Pres. Ciao Fabio. Stamattina quando ci siamo incrociati e mi hai fatto l'occhiolino, ho detto sta tranquillo, quindi vinciamo, al di là di questo. No, prima con Massimo, quando ancora iniziavamo la trasmissione, dicevamo, visto che Dursi sarà sicuramente squalificato e il Pescara deve vincere una partita, potrebbe essere, secondo te, un'opzione giocare con Cernigoi e Ferrari e Clemenza dietro, visto che entrambi stanno bene, anche oggi Ferrari quando è entrato ha fatto bene e Cernigoi ha fatto una buona partita, secondo me. Sì, ma poi dopo il mister adesso da qui a domenica vedrà la soluzione migliore, però non ci dimentichiamo che noi abbiamo in panchina due ragazzi, tre ragazzi, compreso Rauti, due più giovani, lui giovane uguale, ma meno giovane degli altri due, che possono giocare tranquillamente. Io da quel punto di vista sono tranquillo. Va bene così? Ora studio? Va bene così. Allora, io saluto il Presidente con l'ultima domanda. Presidente, io le volevo chiedere se il sorteggio è domani alle 11, se già avete un'idea, se avete parlato sugli orari, se già sono standard per la domenica? Non sappiamo ancora nulla, aspettiamo il sorteggio domani. Ha una preferenza o magari si vuole risparmiare un viaggio in Sicilia? Quello che esce faremo, sappiamo che adesso purtroppo non abbiamo steccato quando ci toccava di fare bene, quindi purtroppo abbiamo queste partite che saranno un pochettino più difficili, magari anche più lontane, però questa è.